Musica Amiche e amici di Vino Divino, guardate cosa c'è il mano Una tortazza, una delle torte più buone che abbia mai realizzato ed è tutta per voi E' una torta con una sorpresa, ci sono dentro le mele, la cannella, la ricotta e le gocce di cioccolato E le mele sono intere e sono ripiene per vedere questa ricetta Mettete mi piace, iscrivetevi al canale di Vino Divino su Youtube Seguiteci anche su Facebook e commentate qui sotto A voi la ricetta della tortazza A voi la ricetta di Vino Divino? 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 Grazie a tutti.